È chiaro che in questo momento per noi è importante parlare con i partner francesi in un'ottica di valorizzare soprattutto la costa Ligure, quindi riuscire a prolungare con questo progetto anche l'accellabile filamentone, vuol dire finalmente avere un'accellabile che possa essere trasfrontaliera. È stato un lavoro portato avanti già da Chamonix quasi un anno fa, finalmente siamo arrivati al momento in cui parte il finanziamento, è un lavoro sicuramente che vuole anche dimostrare un approccio diverso che oggi è la regione Liguria, che è protagonista sui tavoli anche internazionali rispetto al passato dove spesso subiva le scelte che venivano prese dalle regioni francesi sul discapito.